Prima di iniziare volevo invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanellina così non perdere nessun mio video Salve a tutti ragazzi, per questo prossimo video, io sono Krapik e oggi siamo qui in compagnia con Ames un'altra volta Ciao Un gioco più lungo per favore, non basta Ezi si arriva dopo la voce a me Penso che tutti conoscete questa modalità, prodotto type badwars, non sono come le normali badwars Niente, ci vediamo in partita, facci qualcosa di stupido E' patata blu Che ragazzi siamo in partita, ciao mia Ciao 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 Ok, io prendo questi e vado subito a prendere il diamante Ok, va bene Andiamo verso il diamante così possiamo fare già subito il team upgrade Potenziamo subito la fornace così produciamo tante risorse, giusto mio? Altro che le fabbriche Guardami, giusto? Generale E' stato bellissimo Siamo i pink, siamo un po' il team finocchiello No, allora, meno male non siamo gli acqua perché gli acqua mi stanno sul culo Ok, abbiamo fatto la fornace Facciamo questi bellissimi blocchi Abbiamo schiavizzato Ames P per bardare Ho P perché hai una P accanto al nome Grazie Ti chiami Pames? Io mi chiamo Pkrapik, guarda Ma... Pkrapik Se vuoi ti do... le cose belle Cosa intendi? Il Grazie Cioè, sta arrivando il guy No, no Il Grazie Basta, notifiche de mark Prendi l'uovo Dove? Dove è l'uovo? Non lo faccio fritto Il blu Ma se su No, io faccio una sbrother Vai, le sbrother Convertitevi tutti al mondo mondo degli sbroder c'è un red muori red io comincio a fare ci no mi ha droppato la spada pure ma io non ci credo però sono capito zio io comincio a fare team upgrade si fai costenditi fai una sharp io voglio andare assolutamente ad attaccare mi servono 4 di oro ce l'abbiamo 4 di ossi facciamo una tnt così vado a distruggere chi rimane i blu i rossi i gialli i bianni vabbè tutti sono rimasti no blu infami andrò prima io vai spacca dalla battatura no blu infame spiace ma io che ho fatto i tuoi sogni sono io ci sono io ci sono no c'è un bianco arriva un bianco arriva un bianco non arriva il great guy aiuto scappo ha preso 8 smeraldi mi faccio l'armatura cazzuta qua ci sono due diamanti stavo cadendo nel vuoto perché fai sti ponti arriva il gay arriva il gay non l'ho visto la scena dai stai male fatti un video così ti riprendi faccio una sbroder intanto io ho salvato la nostra vita con una sbroder basta silenzio assenzio mi devi fare allora tu devi consumare 12 di oro e mi devi fare un piccolo indiamante perché il gay abbattato con l'ossidiana stupido muori non ci credo non possono darmi tutto questo noto perché ho spaccato sto punto via scappo scappo ti lascio stare perché mi deve seguire ok mi lasciato sto noco c'è il bhu no c'ho 5 smeraldi lasciare stare benocchio siamo i pinc mi aiuto nome arriva il grete mi segue blu mio mio draft rego no mia mi a staranno i blu great ok mi as No Ti ha ucciso Sì Zio è bardatissimo il letto Ok l'ho ucciso l'ho ucciso Lo faccio la TNT fireball Questo ho fatto la TNT e non ho fatto il piccolo Andiamo No Arriva forse di nuovo il grey Lo vedo che Ah no ok sta combattendo col blu Ti picchio forse Oddio lo sono ripreso Il grey ha tirato la fireball Oddio adesso sto scappando No la fireball però no Guarda che gli spacco la bardatura No non ho visto Zio stavo fermando Faccio piccolo diamante Oddio devo darti un dono Lo sai Aspetta vieni qua Non ti dico la canzone della mia Maria Ok Tu sei stata Se scrive Verrai ricordata la storia La storia dello Sbroder No Certo Non vuoi fare quello che penso Sì Oddio c'è il grigio fuori base Non ti preoccupare Non mi ha visto Non mi ha visto Non c'è nemmeno la trappola Che problemi hai Che problemi hai Sto spaccando mia Mi sento inutile Boom Boom Mia Loss Broder Fai cadere il grigio Fai cadere il grigio Vai dov'è 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 Ok no no Aspetta forse viene da noi Aspetta faccio il volo da lui Faccio Ah ma lui c'è gli smaraldi in base Proprio alla grande Oh lo vedo È al centro Ok E provo ad andarci Stanno andando dai blu Stanno andando dai blu White sono Sono vivi Va bene Ok Ciao zio Vai via Broder in faccia Così A futuro senza duro Ok io voglio fare qualcosa Quindi farò qualcosa Ok Dove sono gli acqua Ah no sono morti gli acqua God 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 Io sono dai gialli Perché sono tutte e due dai È vero No zio Zia va in base Zia va in base Non dimmi che non sei in base Sono andando Non dimmi che non sei in base Eh non ero in base Ci hanno distrutto No Zia è un casino È un casino È il grey È il grey No 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 Zia muoio Zia uccidilo Zia ammazzo forte Zia uccidilo No veramente Se non lo uccidi abbiamo perso Non possiamo buttare una partita del genere Vai L'ho ucciso C'è mani in fatica L'ho ucciso L'ho ucciso L'ho ucciso Perfetto Devo fare un dono Sarai felice Vieni Fatti l'armatura Asseghiamo i bianchi Vieni Ah perchè i bianchi sono Dai Dai Vai Preso No si è salvato Ma io mi salvo in questi modi Dios vai in diamante Cosa vuoi fare Zio No Sono cauta insieme alla TNT Sono un demente Non mi copiare Ora arrivano le proagini di mia Guarda come ricado Guarda come ricado Sono caduto all'indietro Oh zio c'è un pink Oh no Sì Ok il bianco sta uscendo fuori base Vieni Adesso è il momento Adesso è il momento Ok Tutte e due bianchi sono fuori Corri corri Vieni Zio Vieni La TNT Spargo io Zio Zio Morite tutti Oddio sto morendo Sto morendo Ho mezzo cuore Ho mezzo cuore Strade Ho mezzo cuore Ho mezzo cuore Ho mezzo cuore No non si è vista Ti giuro mi sono salgato con mezzo cuore Allora i gialli Yellow bed Cioè guarda Yellow bed Stavo distrutto Però guarda Spunta ancora nel letto I gialli Guarda Ma cos Guarda la chat E' vero E perchè Qui c'è un ponte collegato Dai bianchi ai gialli Diretto Sono in base con due golem però Dimmi No Quanto tolgono Quanto tolgono Oddio quanta roba I golem Zio hanno un sacco di roba nella chest Sono morto Hanno un sacco di roba Ok Eh serve Ok siamo protection 4 Io ho due tiani tizio Possiamo andare ad attaccare Sì perchè Loro sono messi tanti Hanno un sacco di cose Allora prendiamo da di lato Li prendiamo Ho dei pink Poi dai pink agli acqua Agli acqua a loro Ma zio i pink siamo noi Eh cioè dai white Scusa Ecco No 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 Non sei caduta No mia No zio però non posso laggare così Ok Ok Faccio La mia connessione Dai No Oddio 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 Ok Ok l'ho buttato di sotto Ok intanto No Hanno due lo stick Vabbè uno l'ho ucciso Quindi Ok un goal è meglio l'ho buttato di sotto Arrivo Arrivo Ok lo sto spammando Ok è caduto Ok io faccio questa cosa Ok No mi uccide Sono morto Niente Mi sa che ce la dobbiamo giocare sul sudden death Cioè sul Quando abbiamo letto distrutti Provo zio Bene Allora zio troviamoci dei cyan Ok No ma io c'ho tutto in base Io farm qui dai cyan Ma io c'ho tutto in base Eh Ah e poi vabbè Ho capito ho capito Quanto se si avvicinano Io ho last brother Quindi posso tranquillamente buttare di sotto Ok io ho dodici smeraldi Torno in base Mi faccio tutto E quando ti dico io andiamo al centro Va bene Va bene Madonna Allora adesso faccio Spade in diamante Stick Zio però io no Io non ho il ponte per il centro Io sono al centro eh No 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 Ok Ciao da qua No Ah ma sei tu Ah ma sei tu Oddio Mi ero spaventato Io mi sto buttando Ti ho visto che eri così Ce n'è uno Ce n'è uno Zio No Si andava sul ponte Lo prendevo bene Zia Allora non guardare quello Ok No Ma che schifo Ho spegato Sette sbro Aia mi ha preso Zia tu pensi Allora dobbiamo pensi Non dobbiamo distrarci Perché uno ci fa Attenta Tu guardane uno Io guardo quello Con la sotto Tu guarda quello là Ok Perché lui Il loro scopo è fare distra C'è un bianco L'ho preso Ho preso il bianco È caduto Sì Con la sbroder Non vorrei che Se provo ad andare Oh Zio Zio No cazzo È passato Ci devo Ci devo No 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 Zio sono morto Anch'io Non ci credo No 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 Abbiamo perso Io la carico Questa Perché È Stava Dai C'è una Mi ha dato Cioè io Per salvarti Mi sono messo In mezzo E mi ha buttato Di sotto Vai ragazzi Questo video Termina qui Lasciate tanti Mi piace Perché è stata Una prototype Bad davvero Epica Finita bene Anzi Finita male Niente Passate al canale Di Ames Che non ha Lasciate like Commentate Condividete Iscrivete al canale Seguitemi su Instagram Dici qualcosa di stupido Brother Arancione Viola E patatosa Al sugo Ciao Ciao